Dieci giorni con l'addolorata verso il venerdì santo, secondo giorno. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Seconda meditazione. Chissà se Gesù qualche volta ha parlato con Maria, sua madre, della sua passione. Se volle a più riprese annunciare ai suoi discepoli la sua passione e la morte a Gerusalemme, perché avrebbe dovuto tacere con sua madre, la quale doveva prendervi tanta parte? Gliene ha parlato, affinché ella la vivesse con lui nel pensiero del sacrificio e con lui potesse ripetere «Devo essere battezzata con un battesimo di sangue». Riflettiamo. All'incontro di Maria con Gesù avvenuto durante la quarta stazione della Via Crucis. Gesù incontra la sua afflittissima madre. Cosa ha provato Maria nel vedere Gesù in quello stato? O Madre addolorata, concedici la grazia di imparare da te ad avere sempre Gesù nel nostro cuore, così come tu lo porti fra le braccia, sempre unita a Lui nell'amore e nel dolore. Ascolta la nostra preghiera, O Madre addolorata. Affidiamo alla Madonna la nostra preghiera e la nostra richiesta. O Maria, dolce mio bene, fa che pure nel mio cuore siano impresse le Tue pene. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vergine addolorata, prega per noi.